Governatore Federiga, l'anno prossimo il Friuli Venezia Giulia ospiterà i campionati europei di calcio Under 21. Una grande opportunità e la macchina di organizzazione e di attrazione è già in moto. Sì, stiamo organizzando insieme ovviamente alla FIGC la serie di eventi perché questa iniziativa non può esaurirsi con le partite di calcio ma deve essere un evento della comunità che possa essere un'opportunità di attrazione turistica e per far conoscere il nostro territorio a livello europeo ed internazionale. È un'opportunità appunto che può garantire alla nostra regione una conoscibilità enorme che deve essere sfruttata in prospettiva. Non può esaurirsi il richiamo soltanto il prossimo anno ma dal prossimo anno l'Europa deve conoscere il Friuli Venezia Giulia, le peculiarità del Friuli Venezia Giulia, il nostro territorio, i nostri beni gastronomici, i nostri beni culturali al fine di aiutare ancora di più lo sviluppo turistico che è uno delle colonne portanti dello sviluppo economico della nostra regione. Alessandro Costacurta, Udine e Trieste sono città importanti, anzi importantissime per il prossimo campionato europeo Under 21 di calcio. Direi fondamentali, credo che ci debba essere comunque una condivisione di obiettivi che sono sia per federazione ma anche per le città e per la regione, credo che anche l'incarico dato a Udine per la finale, anche l'importanza che noi reputiamo debba avere Trieste, sono lì a significare quanto la federazione voglia e comunque appoggiarsi a questa regione per sì che questo evento sia non solo, ripeto, un evento sportivo ma anche un evento culturale perché in qualche maniera noi vorremmo anche cambiare un pochino la cultura sportiva di questa nazione, insomma ci saranno delle iniziative anche in questo senso.